Cascina Triulsa, il padiglione della Società Civile di Expo Milano 2015, ha presentato negli spazi di ExpoGate a Milano l'anteprima del suo programma culturale. Numerose le organizzazioni che hanno presentato i loro progetti, illustrando un'agenda ricca di incontri, workshop, laboratori, spettacoli e animazioni all'aperto. Un palinsesto costruito dal basso, raccogliendo e valorizzando le idee e le proposte della Società Civile e del Terzo Settore. Paolo Petracca, Vicepresidente Fondazione Triulsa. Oggi abbiamo lanciato la terza chiamata di idee internazionali. Dentro il panorama della Cascina non ci saranno solo arte, cultura, approfondimento e opinioni politiche chiare e precise, quindi una visione del mondo che è quella della Società Civile, ma ci sarà anche l'occasione di stare insieme e di fare socialità. Cascina Triulsa è il primo padiglione di Expo Milano 2015 a presentare il suo programma culturale. Ad oggi sono già 60 le organizzazioni che hanno confermato la loro presenza e sono 254 i progetti già inseriti in palinsesto.